We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Merry Christmas! Quindi vi auguro di passare questo Natale in serenità e quindi sperando che avrete ricevuto i regali che vi sareste aspettati Oggi ragazzi vorrei usare il Brecci, ragazzi, il Brecci su Combine, meno detto, e ho visto anche che comunque è un Armas che dovrebbe veramente spaccare un pochetto Ma un pochetto i culi, dico un pochetto perché comunque ha una limitazione, cioè che uccide con due colpi, sì uccide con due colpi Però si deve andare veramente cautamente, veramente, quante, quante, quante mente sto dicendo Non lo so manco io, se comunque giocare in modo, eh, ciao, eh, ciao, io me ne vado di qua Quello è morto, cioè due sono morti Ok, prima kill nostra Prima kill nostra Mamma mia Andiamo di qua Mamma mia, terza kill Terza kill nostra Mamma mia il Brecci, mamma mia il Brecci, ragazzi, mamma mia Subito tre kill Mamma mia Subito Mamma mia Ok, sto fermo un secondo Stanno prendendo B Mamma mia Ok, andiamo di qua Usiamo il controattacco Ok, il controattacco lo mi dovrebbe dare Si spera? Ok, eccolo qua Ok Sapete che facciamo? Lo usiamo ora Lo usiamo ora Uno qua, uno qua E uno qua, va Aspettiamo Vediamo Mai Ecco il mio regalo di Natale No, scherzavo Meccolo, dieci punti Dieci punti Anzi no, ce l'ho Ci sono arrivato? Ok Spero di pensare di averlo dietro Invece no Ottimo, così Andiamo Avanti, ragazzi Abbiamo il nostro missile Hellstorm Che non so se usare ora Mamma mia, ragazzi Stiamo intanto 7-0 La madena Mamma mia 8-0 Siamo su Combine Quindi comunque una mappa Pensa, tatta Mamma mia Ragazzi, mamma mia Mamma mia Ancora c'è tutto Vai c'è tutto Mamma mia Eccolo qua Dieci zero Giochiamocela bene questa Questa mappa Andiamo Ok, doppia Abbiamo una doppia Mamma Mamma mia Giochiamocela bene Bene Vediamo se usciamo No 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 Non posso morire Ok No 13 kit di fila, ragazzi 13 di fila col brecci Ragazzi, ovviamente 13 di fila col brecci Bisogna che un pochetto Uno scollo Ottimo Cioè No 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 Veramente ragazzi Non me ne ero accorto che c'era Non l'avevo proprio visto So che forse voi l'avete visto Ma io non l'ho visto Ok No No Mamma che nabbo che sono ragazzi Un salto felato Mamma mia Non lo voglio felare I salti non li voglio felare Ok Mamma mia No 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 Che cazzo sto facendo Via 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 Lo sapevo che era là Lo sapevo che era là Ragazzi Porca miseria Ok No Di dietro no però No no Di dietro non ci può ragazzi Dai Abbiamo iniziato veramente Benissimamente con questo Ah Non puoi usare la mia arma Pezzo di merda Guardate dove È là È là Ma io non riesco a prenderlo Guardate come mi spunta uno Ok Ok Ora sta Dovrebbe venire qualcuno Doppia Doppia longshot Un altro po' Se non sbaglio Ok No Ma come mi vedono Hanno veramente Degli occhi C'ho come Da falco Potete dire falco Ok Qua uno Subito Una kill Fatta Mamma mia Il breccio è la prima volta Lo sto usando Non pensavo mai Fosse un'arma Così forte No Ok Ce n'è uno che è morto là Quindi Qualcuno qua No No Di dietro Di dietro ragazzi Di dietro Mamma mia Breccio è veramente un'arma Che non avevo mai Ok Vediamo se riusciamo a prenderlo No 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 Troppo lontano Andiamo Andiamo con Cautela ragazzi Però No Andiamo di qua Tanto abbiamo Ondata di calore pronta Andiamo di qua Ah c'è qualcuno Là dentro No No ragazzi Guardate dove ce l'avevo Vabbè Santa Claus Is coming to town Fammi questo cazzo di regalo Ce l'avevo davanti A meno quello mi bastava ragazzi 26 comunque Ah Non scorre niente male E questo era il mio Il mio stordimento Il mio stordimento Che Non ha permesso Non ha permesso Di farmi quella L'ultima kill Dai comunque 26 ragazzi Stiamo giocando 6 contro 5 E' anche una lobby Diciamo squilibrata Perché comunque Da noi siamo Quasi tutti arrancati E da là c'è un prestigio 2 Perché se il prestigio Ovviamente non conta Contano Le azioni E i fatti Quindi noi subito Vediamo Vediamo Ok Ce n'è uno di dietro Che non se ne sono accorti Ok no L'ha ucciso penso No B no B no 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 Non voglio morire Meno male Meno male ragazzi Mamma mia ragazzi Veramente No vabbè Vesper di cacca Di merda Vesper Il Vesper è un'arma Veramente forte Vediamo se esce Vai Assiste Assiste Ragazzi Assiste Stiamo parlando Però B ancora Non l'abbiamo presa Andiamo a difenderla Ma come l'hanno presa B Beh No 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 ragazzi No 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 Dai Ora veramente Sto solo morendo Cerchiamo veramente Di fare altre kill Ovviamente possibili Perché quelle Guardate quanto sono lontani quelli Io vado di qua Cerco di prenderli qua Anzi no Vai tu Magari c'è qualcuno Bocca alla vacca tu Medra Mamma mia ragazzi Andiamo di qua Andiamo di qua Guardate come Guardate come spuntano Ticca attacche Ticca attacche Ticca attacche Spacca Spacca Ticca attacche No niente scherzavo Securing B Andiamo di qua Ok mamma mia Andiamo di qua Facciamo Un pass No Questo era di dietro E vabbè era normale ragazzi Comunque Era il loro spawn Comunque B La potremmo pure prendere Non capisco perché Questa tutta Questa Spentanza Ne prenderebbe Anche Mamma mia Mamma mia Che scivolata No E vabbè ragazzi Ero già Mezzo Rincretinito Possiamo dire Cioè Ero mezzo Ammazzato Cioè Ero proprio morto Sì vabbè Questo qua però che si fa I salti del Dio Cristo Non può farlo Mamma mia come l'ho preso Mamma mia Gioca a memoria Possiamo dire Mamma mia Mamma mia ragazzi Le abilità col pompa Le abilità col pompa Le abilità col pompa Mamma mia Appena lo vede Lo devasta Mamma mia Troppo forte questa abilità Comunque eh Pensavo Potesse fare certe cose No 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 Ragazzi Certe volte Bisogna rischiare Con il fucile a pompa Perché Ma si sa Che la gittata Non è il suo forte Ragazzi Come potete vedere Ormai il brecci È un'arma Che sto usando ora E quindi Potete anche vedere Che devasto si può fare Vediamo Esci Se non esce Andiamolo da loro No vabbè Ragazzi No ragazzi Non si può Non si può camperare E non si può camperare Pezzo di cacca E non si può camperare No Con me no Con me non camperi Che se camperi Sei un figlio di troia Vediamo Non c'è nessuno Oh mio dio Securing Bravo Addirittura Dopo con la granata No Ragazzi vi giuro Avrei fatto tripla 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 Una bella tripla Non me l'avrebbe cacciata Nessuno Dai Ma la verità Guarda questo Ma va al favore Vaffanculo Vaffanculo Perché Veramente Ok Ce l'abbiamo di dietro Se non sbaglio No 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 ragazzi No Mamma mia Ragazzi Ovviamente Stiamo andando Ottimo La radio 2 Possiamo dire Ottimo Ok Ce ne abbiamo due qua Mamma che doppio Mamma che doppio Ragazzi Col brecci Mamma mia Mamma mia Che spettacolo Questo gameplay Ragazzi Mai giocato col brecci Mai giocato col brecci Ragazzi Mamma mia Perdiamo questa partita Ragazzi 32-15 Col brecci Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ragazzi Sono rimasto Alibito Da questo Fucile a pompa Che E' stato nascosto A me E' stato Mi è stato nascosto quindi Che non ho mai provato Ragazzi Abbiamo perso questa partita Ma abbiamo fatto uno score Ottimo Possiamo dire Con un fucile a pompa Come sempre Vi lascio il mi piace E condivido il video Vi lascio tutti i link Dei social In descrizione E stati su canale Per altri video Su black ops Buon natale ancora E Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti